Con lo scenario che si è presentato in seno alle diverse forze politiche della maggioranza, in questo momento forse sono verso un punto di distanza di non ritorno da questa amministrazione. La dichiarazione sciocca arriva da capogruppo di Avanti Sulmona, Fabio Pingue, candidato a Consiglio regionale con la lista più Abruzzo. A margine della trasmissione elettorale, il consigliere comunale ha stigmatizzato le voci che circolano nelle piazze e nei quartieri della città. C'è chi lo vede già come primo sostenitore del sindaco, Anna Maria Casini, qualora il risultato delle urne non sarà a favore del suo progetto politico, ma il diretto interessato non ci sta. Prima prende le distanze dall'amministrazione Casini, poi dà un colpo al cerchio e uno alla botte. Finora abbiamo tenuto scisse completamente le questioni amministrative regionali, ha sordito Pingue, però è evidente che con lo scenario che si è presentato in seno alle diverse forze politiche della maggioranza, forse sono verso un punto di non ritorno. E fin qui la dichiarazione lascia aperti pochi dubbi, sembra quasi un arrivederci annunciato, ma Pingue subito dopo chiarisce e argomenta. Qui non si gioca il mio successo o il mio insuccesso personale, ma si gioca una partita di rappresentanza territoriale e quindi qualora dovessi avere il risultato che avrò, è chiaro che non è vero quello che qualcuno sicuramente dice in giro e che tu poc'anzi hai ricordato che io diventerò il primo sostenitore dell'Aggiunta Casini. Assolutamente questo mi sento di escluderlo perché non c'è un tornaconto personale in questa candidatura, ma come sempre un progetto politico che mi ha visto costruire insieme a un fronte ampio e coeso questa candidatura e che dall'11 febbraio in poi continuerà a lavorare. Resta difficile tradurre il pensiero di Pingue, anche se alla luce dell'ultima uscita pubblica la presa di distanza non sarebbe poi così lontana. Qualora Pingue decida di abbandonare la maggioranza, il quadro politico si complicherebbe non poco per il sindaco Anna Maria Casini, anche se in politica tutto può succedere. Chissà ad esempio se l'Alleanza per Sulmona sarà disposta a staccare la spina all'amministrazione comunale dopo aver atteso in vano l'uscita di scena dei ribelli della maggioranza. Un tiro e molla che è andato avanti da agosto scorso, da quando il sindaco ha prima rassegnato e poi ritirato le dimissioni. Per qualcuno il treno è già passato, anche se, stando alla celebre canzone, in politica come nella vita?